In realtà i superpoteri li hai già, fai di tutto di più, anzi a volte le prendi pure. In realtà i superpoteri arrivano ad alta firo, lui ti dà l'energia perché io senza di lui sono un uomo normale in realtà. Senti sei un appassionato di supereroi, ti piacciono, segui i film? Sì sì, fin da piccolo collezionavo i fumetti, sia dell'Uomo Ragno, sia Capitano America, sia d'Oro, quindi quello che noi vedevamo e che sognavamo guardando leggendo i fumetti oggi si è concretizzato dal cinema grazie agli effetti speciali. Quindi riuscire a vedere un prodotto oggi che proietta la nostra fantasia di adolescenti è molto emozionante. C'è un supereroa che preferisci? Io sono filo uomo ragno, Spider-Man per otto ore, il secondo perché mi piace molto. Capitano America è il terzo e poi ce ne sarebbe un elenco però perché ho potuto intervistare anche altri. Spider-Man è il più distrattato però, lo sai, dei supereroi sul web, sul Patreon. Beh, ma a me quello che pensano gli altri... Sono bravo! Che importa? Io ho la mia storia di Spider-Man, Spider-Man per me è un supereroe, Peter Parker ha un escursus molto interessante e poi soprattutto da parte della mia infanzia. Quindi per me quello è il numero uno. Ma tu sei d'accordo? Pienamente d'accordo! Concordi anche con l'eroe! Piena me! Piena me! Piena me! Grazie mille! Buona visione! Piena me!